Riecoci insieme col Biancherosso TV Sport, il biglietto per Bari-Juventus l'abbiamo dato e ripeto, chi ha vinto è davvero fortunato perché la vendita è spesa. No, ce l'è meritato, ce l'è meritato, ce l'è meritato. Ce l'è meritato, se lo dice Gian Antonucci, gli ha dato un aiuto però fantastico. Questo penso che era un gioco che volevo tenere per 4-5 giorni, il tuo aiuto è stato proprio perfetto. Arriviamo alle telefonate perché parlare con il professor Antonucci è sempre un piacere, sottoponetevi al test con il professor Antonucci. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Sì. Ciao, sono Daniele Davari. Ciao Daniele. Saluto il professore. Professore è soltanto del calcio perché gli altri corsi sono zero. Sì, volevo chiedere una cosa, volevo fare una piccola sottolineatura. Allora noi giochiamo il 6 dicembre che è San Nicola, giusto? Il 6 giochiamo con Napoli? Sì. Il 6 giochiamo, il giorno di San Nicola giochiamo con Napoli, sì, è il 6? 6? Sì. Volevo chiedere al professore, ci sono dei trascorsi in cui noi abbiamo giocato il 6 dicembre e i risultati? Domanda da 100 milioni di dollari. Ti ricorda qualcosa di particolare il 6 dicembre per le partite del Bari? Sì, voglio, ho giocato diverse volte, anzi ti dirò di più. Oh, hai visto? Proprio questo devo mettere nel prossimo numero del mensile, tutte le volte che il Bari ha giocato il giorno di San Nicola e che cosa ha ottenuto come risultato. E ti dirò di più che sono risultati positivi e risultati negativi. Non sono molti, ben indesso, anche perché la domenica… Però una partita che ti ricordi in particolare il giorno di San Nicola c'è? Beh, è stata in Serie C, è stata in Serie C e devo esserti sincero, la gente è venuta al campo. Ora è chiaro che questa volta giochiamo fuori casa, perché la maggior parte delle volte abbiamo giocato fuori casa il giorno di San Nicola, mentre abbiamo giocato più in casa il giorno dell'Immacolata. Tanto è vero che poi il giorno dell'Immacolata è ricordato a Bari perché fu inaugurato lo stadio, il cosiddetto campo degli sport, l'8 dicembre 1925, con la partita Bari-Anconetana, che vinciamo 1-0. E mi ricordo che vennero, cioè mi ricordo, io non ero nato ancora, però naturalmente da quella che è stata la mia ricostruzione sulla storia del Bari, erano venute tutte le autorità. Perché se ci fossi stato anche in quella cosa c'era vuol dire che hai cent'anni vuol dire che hai cent'anni. 0-80-501-9998, un'altra telefonata in linea, pronto? Ciao Enzo e buonasera al professore. Ciao, ciao. Una promessa di tutti e due, se dovessimo vincere con Napoli, con la Juve, tutti e due in Curva Nord. Chi tutti e due? Voi due. In Curva Nord, vuoi vedere in Curva Nord? Sì, sì. C'è un amico che ha detto, se vinciamo con Napoli vi voglio vedere in Curva Nord per Bari-Juventus. Io vengo! Ok, noi ci teniamo, professor, perché noi della Curva la finiamo e lei lo sta. Oh, che io ho cominciato con le curve, ho cominciato. Vabbè, certo. La prima partita fu sotto la Torre della Maratona, era il 3 gennaio 1937 e vincevamo 2-1, dopo essere stati in svantaggio per 1-0. Allora, alla Curva Nord, prima non era così affollata, era abbastanza… ricordo la Serie A che noi facciamo il settimo posto, io tenevo 18 anni, me ne andavo con una ragazza, perché là non tanto eri visto. Ho capito, era eccezionale sta cosa. Oggi ti vedrebbero tutti. Sì, figuriamoci. Io ho pure le checche in gap. Vabbè, comunque allora promessa, questa è una promessa in pubblico. Vabbè, io non posso perché non ci sono i collegamenti per il pubblico, devo lavorare. Abbiamo la radio dopo la partita. Bravo, 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 mi piace. A proposito, mi ricordi che sta andando clamorosamente bene la nostra trasmissione, il bianco e il rosso, l'ultimo minuto, perché appena finisce, o meglio, vi trasmettiamo proprio il finale della partita e poi i collegamenti dagli stadi dove gioca il Bari, dal San Nicola, con le voci dei protagonisti, un successione enorme, arrivano valanghe di telefonate. Vi ricordo, Radio Bari 88.8 oppure www.radiobari.net, dalle 16.30 saremo collegati con San Paolo, con Cristian Siciliani dal campo e Davide Lattanzi dallo studio, quindi mi raccomando, continuate perché questa è un'altra trasmissione fortissima. Sì, è bella, bella assai, anzi è stata un'idea geniale, devo dire, soltanto che volevo, già che lui mi ha invitato alla Curva Nord se dovessimo vincere a Napoli, per domenica addirittura gli amici del gruppo di Procacci, di Trani, mi hanno scritto, mi hanno mandato anche delle mail dicendo, la veniamo a prendere, deve stare con noi a vedere la partita, ma io non voglio, se no soffro, io mi devo alzare durante la partita, specialmente davanti alla televisione, gira attorno alla stanza, vada sul balcone, quante minuti mancano, sai, non voglio dare… La resti trova fastidio, insomma, vabbè, c'è un amico in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera, un saluto particolare a Tenzo e al professor Antulci che io conosco di persona, lui non ricorda, ma abbiamo preso il caffè insieme con un'amica in comune a riguardo del mio lavoro, della postina, quindi era una cosa così, quindi sono contenta… Sei una postina? Prego? Che fai? Sì, sono una postina esattamente della zona della redazione del professor Antulci. Ah, postina della tua zona, della zona dove hai l'ufficio, è una postina… Attualmente, no, attualmente ho i riposti, è sempre un tifoso, ne abbiamo sempre parlato quando portavo la posta, sono contento di sentirti, vieni a me a trovare, se vieni ti do un numero del giornale. Eh sì, professor, io comunque guardo sempre la… Vieni a me a trovare, tanto ci sta Franco che ti conosce molto bene, il portiere Franco e io sono una canità… Tifosa del Bari. Sì, sono un po' ulstra, sono sempre in cura a nord tutte le domeniche, non vado in trasferta per questione di sicurezza perché ci vado con tutta la mia famiglia. Questi sono i personaggi che sono vicini a me, non che vanno a fare la critica, oggi vincono, oggi, non so, abbiamo vinto, tu immagini se non fosse entrato il pallone di Greco, quando ne avrebbero scritto il Bari non sa più vincere, il Bari non sa più segnare, il Bari non sa più, e ci vuole una canna. Che è sta fotografia? Intanto ti salutiamo, ti salutiamo, un abbraccio. Un'altra fotografia, Rai Duccio contro un giocatore del Napoli, quella partita la perdemmo 1-0 con un gol di Zola, Zola che giocava nel Napoli. Una partita dove Maradona poi venne riscontrato positivo al doping, è questa la partita? No, no. Non è questa? E quest'altra qui? Oh, aspetta, questo non è un caso che mandiamo questa fotografia, perché non c'entra niente con Napoli-Bari, ma c'entra con un'altra cosa avvenuta ieri, perché ieri è stato inaugurato ufficialmente, in verità c'era già il club dedicato a Jean-François Gillet a Capurso e ieri Gillet ha fatto visita insieme a tanti calciatori proprio al club, ecco le fotografie di ieri. Dovevamo andare insieme, dovevamo andare. Ci avevano invitati, poi non siamo potuti andare, quindi davvero un saluto affettuoso agli amici di Capurso, questa è la fotografia del club, direi giustamente dedicato a Gillet, perché Gillet è una bandiera per questo Bari, ma tu hai fatto vedere una fotografia vecchia? Perché c'è stato un altro club a Capurso? Sono tutti gli amici di Capurso. Qual è il comune della provincia barese più legato al Bari? Ci sono tanti comuni della provincia barese, ma un club, o meglio una cittadina… Devo dire dove sono nato io, un paese piccolo, eppure sono andati a Bologna, sono andati a Milano, sono andati a Roma e tu vedi, mi detto, sta scritto, sono abbastanza… anzi ti dirò di più che con molta probabilità, da quello che mi è stato appena anticipato, forse il comune in occasione dei 102 anni del Bari vorrà ospitare il Bari ai 15 gennaio, mi sembra, non sono ancora sicuro. A me ha sempre incuriosito, e poi chiudiamo questo discorso e chiudiamo proprio la trasmissione, ma è sempre incuriosito vedere come nei comuni al confine tra il barese e il tarantino, ma che sono dalla provincia di Taranto, faccio un attivo per il Bari, a Mottola ad esempio sono molto tifosi del Bari, a Palagiano sono molto tifosi del Bari, o il Baglio… Ammo ti dico che tu mi hai preso sotto lo studio, stava un signore che io non conosco, mi si è avvicinato e dice guarda io non sono di Bari, sono dalla provincia di Taranto, io sono un appassionato del Bari da quando giocava Mario Fara, mi racconto, posso rimanere con lei, poi sei arrivato tu… E quindi abbiamo centrato l'argomento. Va bene Gianni, noi ci rientriamo lunedì mattina a B&G, abbiamo la solita telefonata, speriamo con… No, io voglio andare in curva nord perché vuol dire che abbiamo vinto. Promessa è fatta. Grazie, ci rivediamo lunedì mattina a B&G, insomma poi mi raccomando il bianco e rosso in ultimo minuto. Forza Bari, ciao! Grazie, ci rivediamo lunedì mattina a B&G.